Le sensazioni sono buone, c'è grande voglia dopo questo periodo di stop forzato, che tra l'altro è il primo così lungo nella mia carriera perché avevamo mai saltato una partita, quindi non ci sono abituato. C'è grande voglia di riprendere da dove avevamo interrotto con Siena e di dare una mano alla squadra dando il 120 per cento contro una squadra molto forte e molto attrezzata. È una partita tostissima per due motivi, prima per il loro valore e lo dimostra la loro classifica, secondo perché giochiamo in un campo storicamente caldo e perciutto fuori casa, quindi diciamo che le difficoltà saranno più di una, ma questo non ci deve far distogliere la concentrazione da quello che c'è da fare. Abbiamo lavorato molto sui dettagli, sull'esecuzione dei nostri giochi offensivi, che è quello che dobbiamo fare e che ancora ci manca, sull'intensità come sempre.